Generale, come sono cambiate le forze militari in questi anni? Tutti quanti abbiamo sotto gli occhi quella che è l'attuale professionalità delle nostre forze armate, in particolare dell'esercito. Ci sono stati dei grandi cambiamenti, come tutti sapete la leva è stata sospesa e quindi abbiamo un esercito assolutamente professionale. Il cambiamento è stato nei numeri, ovviamente abbiamo dei numeri molto più piccoli e nella elevazione della tecnologia di cui disponiamo proprio quest'anno. Il calendario dell'esercito che è stato già presentato a Roma e che presenteremo il 19 a Treviso in Comune, riporta questo sviluppo della tecnologia, l'esercito per la ricerca, quanta ricerca faccia l'esercito proprio dal punto di vista dell'elevazione della capacità tecnologica. Ecco, questo è il nuovo esercito, un esercito di professionisti estremamente specializzati, motivati, che lavorano molto per mettere le nostre forze operative nelle migliori condizioni per poter operare nei teatri, ma non solo, anche in Italia dove siamo molto presenti in varie attività. Non solo interventi militari, ma anche interventi sul territorio nazionale. Devo dire sì che le capacità militari spaziano in un ventaglio molto ampio, da quelle prettamente professionali, connesse con la capacità militare propria, ma abbiamo anche una capacità di intervento, e l'abbiamo ampiamente dimostrato recentemente, nei confronti delle esigenze della popolazione per pubbliche calamità, alluvioni, avete visto dappertutto i nostri uomini operare a montare ponti, a rimettere in funzione strade, canali ed altro. La differenza rispetto al passato è che non disponiamo più di una grande massa di uomini, quindi forse meno uomini con la pala, ma più uomini con i mezzi meccanici che consentono di risolvere, meccanici e tecnologici ovviamente, che consentono di risolvere in brevissimo tempo grandi problemi. La donna, dieci anni fa, lo sapete, è entrata a pieno titolo nella nostra Forza Armata. Io penso che l'Italia sia l'unico paese in cui non c'è stata nessuna, tra virgolette, discriminazione nei confronti della donna, perché le prove che le donne devono sostenere per poter entrare nelle Forze Armate sono esattamente le stesse che sostengono gli uomini, e questo, ai fini della pari opportunità, devo dire che è stato un grosso risultato. Le donne vengono impiegate in tutti i ruoli, io ho comandato l'Accademia Militare fino all'anno scorso, vi posso dire che i risultati sono assolutamente equivalenti, una persona in gamba, intelligente, che sia maschio o che sia femmina, non cambia, anche ai fini della professione militare. Stiamo ottenendo dei grandi risultati, il valore aggiunto della presenza delle donne, sia come ufficiali, sotto ufficiali, che come militari di truppo e graduati, è quello che nei teatri operativi disponiamo di donne capaci, che ci facilitano i contatti con popolazioni dove la figura della donna è ancora legata a delle regole particolari che non troviamo nel mondo occidentale. In Afghanistan, per esempio, le nostre donne hanno compiuto delle missioni molto importanti e ci hanno consentito di ottenere dei grandi risultati proprio nella relazione con le amministrazioni, eccetera, eccetera. Una donna medico è molto meglio accettata che un medico militare in un ambulatorio dell'Afghanistan o non che del Libano o dell'Iriac in precedenza. Grazie a tutti.